C'è anche il geometra e compianto ex sindaco di Sape, Ermanno Cosentino, tra i nomi dei podisti salernitani a cui sarà dedicata la prima edizione della Corri con noi Salerno Smart Run, che si svolgerà il 25 febbraio. Una gara di 8 chilometri organizzata dalla SD Salerno Running Club in memoria di Salvatore Izzo, noto imprenditore, Federico Ruffolo, stimato cardiologo, ed Ermanno Cosentino, appunto, che militava nell'associazione sportiva. Il percorso si articolerà lungo un circuito di 4 chilometri da ripetere due volte con partenza e arrivo alla stazione marittima. È stato pensato per rendere omaggio ai tre podisti che per anni hanno fatto parte dello scenario dell'atletica leggera salernitana. La loro scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra gli amici e i compagni di squadra che non si sono arresi alla sconfitta del dolore, perché lo sport è vita e in quanto tale deve essere celebrato. Appuntamento dunque sulla linea di partenza alle 9.30 di domenica prossima all'interno del Smart Run Village, il villaggio sportivo allestito per l'occasione nella stazione marittima di Salerno, dove atleti e non solo potranno sperimentare i benefici dell'attività fisica e degustare i prodotti tipici del territorio. L'evento sarà presentato il 22 febbraio presso la Sala del Gonfalone al Comune di Salerno. La conferenza stampa è fissata per le ore 10. Per informazioni e per le modalità di iscrizione alla gara consultare il sito www.corriconnoisalerno.com.